Al Via, domenica 10 aprile, Vinitaly 2016, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, inaugurato alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenuto nell'Auditorium Verdi di Verona Fiere per il cinquantesimo anniversario della importante Kermess Veronese, in programma fino a mercoledì 13 aprile con 4.100 espositori italiani ed esteri e buyer provenienti da più di 140 nazioni. Al termine dell'inaugurazione, spazio al premio Benemeriti della Viti Vinicoltura Italiana, già premio Cangrande, prestigioso riconoscimento assegnato seguendo le indicazioni degli assessorati regionali all'agricoltura, che segnalano ogni anno coloro che, con la propria attività, contribuiscono al progresso qualitativo della produzione viticola ed enologica della propria regione. Per il 2016, per la Puglia, premio all'azienda della provincia di Foggia Gian Felice D'Alfonso del Sordo. Grande affluenza di pubblico nei padiglioni di Veneto, Emilia Romagna e Lazio. La Puglia ripropone la stessa immagine dello scorso anno, nel consueto padiglione, l'11, condiviso con la Basilicata, con un programma istituzionale ridimensionato rispetto alle precedenti edizioni. Significativo, invece, l'impegno delle aziende Noiche Pugliesi, che, unitamente all'Associazione del Territorio, continuano a promuovere un comparto che negli ultimi anni è stato il fiore all'occhiello della Puglia enogastronomica. Tra le iniziative che hanno caratterizzato la prima giornata a Vinitali, Vigneto Puglia, la rassegna di incontri tematici organizzata dalla FIS, Fondazione Italiana Sommelier. Per questioni di tempo abbiamo solamente voluto analizzare i cinque più importanti vitigni di Puglia, tra cui il Primitivo di Manduria, il Negro Amaro, il Susumaniello, il Nero di Troia e, per finire, un bianco d'eccellenza, il Minutolo, che riporta l'idea alla Valle d'Itria, terra da sempre evocata per i bianchi. Degustazioni tecniche dei vini più rappresentativi di ciascun territorio, condotte dai relatori di Bibenda e presentate da Fede Tinto, della famosa trasmissione radiofonica di Rai Radio 2, De Canter. È una grandissima cosa, è un grandissimo progetto. Il vino racconta non solo il territorio, racconta la gente che fa il vino. Dal contadino, dal vignaiolo, all'enologo, al proprietario di cantina, al produttore. Il vino prende qualche cosa di tutte queste accettature di personalità e le mette, le coniuga tutte insieme in un unico prodotto.